Il governo Meloni ha giurato e quindi è in carica dallo scorso 22 ottobre e quindi da più di nove mesi, 286 giorni per la precisione. È un governo di centrodestra ed era dal 16 novembre del 2011, giorno nel quale si è concluso il quarto governo Berlusconi, insomma da quasi 12 anni che in Italia non avevamo un governo di centrodestra. Quindi diciamo che così, era molto atteso anche per questo motivo, atteso proprio per vedere se avremmo assistito ad una svolta, insomma un governo diverso da quelli di centrosinistra e da quei pastrocchi, quelle ammucchiate tipo Monti e Draghi. Chiaramente un bilancio definitivo si potrà fare solo a fine legislatura, ma insomma cominciamo a dire qualcosa e partiamo dal primo decreto legge annunciato nove giorni dopo il giuramento e durante il secondo consiglio dei ministri. Vabbè, in questo decreto legge c'è un provvedimento certamente positivo, lo stop all'obbligo vaccinale per i medici e quindi per il personale sanitario e quindi diciamo una misura che era stata introdotta dal governo Draghi nell'aprile del 2021. Di conseguenza, certo, sono venute a meno anche tutte le sospensioni per i sanitari non ancora vaccinati che potevano dunque tornare a svolgere le proprie mansioni. Certo, mi farete notare che il provvedimento introdotto dal governo Draghi aveva scadenza a fine anno, quindi il provvedimento del governo Meloni nei fatti si è limitato ad anticipare di due mesi quanto già stabilito. Ma insomma vi controbatto che tanto è meglio che sia stato anticipato di due mesi, ossia che sia stato reso immediato il reintegro dei, chiamiamoli, medici intelligenti. E poi, se fosse rimasto in carica il governo Draghi, avrebbe anche potuto avere il coraggio di posticipare quel provvedimento e mantenere quindi in essere quelle folli sospensioni. Vabbè, sono partito da un fattore positivo per il governo, niente di straordinario però, e comunque, perché insomma di aspetti positivi ve ne sono ben pochi. Ecco, sempre dentro questo primo decreto è stata introdotta una nuova fattispecie di reato per i rave party legato alla invasione di terreni ed edifici finalizzata a raduni di oltre 50 persone da cui possano derivare per l'incolumità, l'ordine o la sanità pubblica. Il reato prevede la confisca degli oggetti utilizzati durante l'occupazione, la reclusione da 3 a 6 anni e multe da 1000 a 10.000 euro per le persone che appunto organizzano o partecipano a questi eventi. Sì, non era granché, però aveva alimentato la speranza che il nuovo ministro degli interni, Matteo Piantedosi, fosse una persona in grado di tutelare la popolazione. Purtroppo, purtroppo si è dimostrato una grande delusione. Naturalmente mi sto riferendo alla difesa delle nostre coste che invece sono state invase e continuano ad esserlo a livelli mai riscontrati negli ultimi anni. Insomma, occorre tornare al governo Renzi per ricordare una tale invasione. Inutile sottolineare però che la maggior delusione l'ha fornita Giorgia Meloni nella politica estera. Proprio da vergognarsi. Ha abbracciato Tesi in totale contrasto con ciò che aveva sempre sostenuto dai banchi dell'opposizione. Il suo comportamento è stato letteralmente vomitevole, soprattutto in netto contrasto con l'indole naturale del popolo italiano. Un popolo sempre incline alla conciliazione. I nostri grandi presidenti del Consiglio della Prima Repubblica, e voi sapete a chi mi riferisco, venivano accolti con tutti gli onori il giorno prima al Knesset, cioè il Parlamento Unicamerale israeliano, e il giorno dopo con una ovazione dal Consiglio Legislativo palestinese. Questa è politica estera. Incontrarsi con Brezhnev e successivamente con Nixon. E avere buoni rapporti con entrambi. Perché il primo ti fornisce fonti energetiche a basso prezzo. E il secondo era per noi un grande paese nel quale esportare le nostre eccellenze. E adesso invece ho trovato, guardate poi, semplicemente umilianti alcuni atteggiamenti avuti dalla Meloni nel recente viaggio negli Stati Uniti. Soprattutto per quanto riguarda l'incontro con Joe Biden. Farsi continuamente toccare le mani. Non lo trovo un comportamento consono per un politico. Una stretta di mano iniziale ovviamente è doverosa. Ma poi si devono mantenere le distanze. Ma dove siamo? Perché certe confidenze? Siamo due capi di governo? Vabbè, cambio argomento perché questo proprio non... In campo economico, diciamo, non ha ancora potuto fare errori o danni clamorosi. Appena è insediato il governo doveva fare la legge di bilancio che tuttavia non è che potesse distaccarsi molto da quella oramai già tracciata dal governo Draghi. Vedremo la prossima, che sarà veramente importante visto che dall'inizio dell'anno prossimo tornerà in vigore il patto di stabilità e vediamo con quali vincoli. Bene che non abbia ancora ratificato il MES, anche se ritengo che l'abbia voluto tenere così come oggetto di scambio proprio per quanto riguarda la riforma del patto di stabilità. Insomma, mi andava oggi di fare queste semplici riflessioni. Mi piacerebbe avere anche i vostri commenti a riguardo.